...risultato. Sono davvero curioso di vedere... ...c'è campo per lui. Non avviene noia, era attenzione. E no. Possono passare in vantaggio. 1-0, primo gol fondamentale. Ora vediamo se reagira. Replay che evidenza delle straordinarie notti fisiche atletiche di questo giocatore. Siamo verbale. Opportunità. Avvio di mezzo scoppiettante. Non siamo nemmeno a metà primo tempo. E entrambe le squadre hanno già trovato il gol. Pari. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Hanno trovato il gol del vantaggio che non dà la sicurezza della vittoria, ma è davvero un grande vantaggio. Tattico. All'interessante dello spazio. Stoppa il pallone. Può andare Pericolo. E con questa rete si sono fatti raggiungere il risultato. Adesso è ancora... ...supro del pallone. A Pugomes. Prova la botta. Passano a condurre col gol che cambia inevitabilmente il tema Tattico. Cercano il buco della difesa avversaria. Attenzione Pericolo. Una giornata che non dimenticherà. È arrivata la tripleta. Per Ram Torres. Occasione d'oro. Ecco il gol. Quante emozioni, soprattutto quanti gol. Posizione ideale. Non è finita. Tiro murato. Di Porta evitando il peggio. E se lo dando il risultato. Palla buona per Mertec. Non la blocca. Occasione. C'è spazio per andare. Ecco Pugba. Interviene sul pallone. Non c'è fallo. È finita. Un ottimo risultato per la squadra ospite che torna a casa con i tre punti.